ha bannato Mastino, dall'altra parte invece Bazar ha bannato il Minatore quindi due delle carte migliori per questi due giocatori che finalmente si sfidano Makers contro Clash, Bazar contro Mattia è iniziata ragazzi, è iniziata clippate, ditelo ai parenti, fate qualunque cosa, chiamate tutti a vedere questa partita perché questa partita non deluderà le attese io tanto vorrei chiedere scusa a Mattia che sarò proprio la causa della sua sconfitta perché come sapete quello che dice il caster è praticamente il contrario di quello che andrà a succedere sempre così però io ho sempre twittato, adesso mi sono ricordato di farlo, su Bazar che vince quindi insomma riequilibriamo, però attenzione il push arriva sulla linea di sinistra con Maialini Royale e un ottimo, ha fermato benissimo con la rete da battaglia quel Principe Nero che poteva essere molto molto fastidioso su questi 5 barbari che invece dovranno essere formati in altro modo eh sì, allora andiamo a vedere adesso qui Mattia sto usando un deck molto fastidioso dall'altro lato abbiamo i barbari che proveranno non ci credo, non ci credo vedremo tre moschettieri vedremo tre moschettieri eh già, estrattore di Elisir per Bazar che quindi tra l'altro è lasciato uncontested quindi nessuno ha fatto male a quell'estrattore di Elisir che potrà fare davvero la differenza diciamo alla lunga perché non ci sono pozioni grandi da parte di Mattia non può toccare quell'estrattore di Elisir qui arriverà una palla di neve solita e infatti l'orda di Elisir viene ricacciata a casa qui uno spirito del fuoco può fare il primo danno eccolo, il primo danno alle torri di Mattia allora Mattia sta giocando meglio ma quell'estrattore può fare la differenza io non penso che Mattia abbia dei counter diretti per toglierlo infatti così è, avendo anche allora questa è stata una scelta molto saggia perché se tu ci pensi uno dei counter diretti dell'estrattore è proprio il Minatore che è la carta che è andata a bannare Bazar certo, certo quindi è stata una scelta davvero davvero ottima da parte sua riparte comunque il push in forze da parte di Mattia qui non viene, no alla fine invece viene fermato quel Principe Nero non ci sono tanti danni sulla torre grazie Maglioni Royale qui quei pipistrelli verranno ovviamente tutti eliminati sia dagli spiriti del fuoco che dal moschettiere adesso si fronteggiano i due moschettieri avrà l'amel, sono esattamente pari avrà l'amel in verità quello di Mattia perché è stato piazzato il Principe Nero adesso prende i primi hit da parte di quei spiriti del fuoco ma di nuovo barbari che riescono sempre nell'intento di fermare i push di Mattia ripeto, Bazar sta giocando con molto più Elisir ha molte più risorse, addirittura due estrattori funzionanti questa partita la vedo e non hai i tre moschettieri non hai i tre moschettieri tre estrattori funzionanti direi che sono un po' troppi preparati, da adesso inizierà l'inferno e beh sì l'inferno, povero Mattia guarda con quanta roba può giocare il giocatore dei makers adesso si avvicinano pericolosamente tutte le truppe di questo push alla torre di sinistra di Mattia viene però respinto tutto in maniera veramente molto molto abile e adesso non prende manco un danno mamma mia Mattia come fa? non lo so allora addirittura ha dovuto tirare una palla di neve su quei tre estrattori per, diciamo, conterargli un minimo ma adesso non l'ha in difesa spero che, ecco, l'ha tirata fuori no, ha difeso di nuovo ha difeso di nuovo non si passa, dice Mattia nonostante i tre estrattori di Bazar è lui ad avere in teoria il vantaggio per quanto riguarda i danni Aletori adesso passa qualche maiale royal qualche hit arriva 1703 punti vita della torre della lente sinistra e arriva comunque ancora un push da parte di Bazar che sempre lavora con due estrattori quindi con un vantaggio di Lisir impressionante mamma mia io non so come faccia ad essere ancora in vita Mattia sta difendendo l'indifendibile qui vediamo se arriva una palla di neve a fermare questi sgherri che possono fare i loro danni deve arrivare per forza ora deve pensare già a difendere i barbari e l'avversario è full Lisir parte dall'altra lane con la diete cioè ogni volta riesce a difendere grazie alla torre e comunque alle minori truppe lui comunque riesce a difendere una cosa impressionante qui arrivano 5 barbari dall'altra parte guarda dall'altro lato che partita incredibile che sono creato questi due giocatori Mattia deve solo cercare di non perdere chiaramente adesso manca un minuto e venti perché difficilmente sarà lui a vincere nonostante ripeto sia comunque quasi in vantaggio grazie a come la diete royal io immagino lo stress adesso sul telefonino di Mattia deve cliccare veramente con tutte e dieci le dita guarda comincia a mettere delle truppe comunque a fondo torre adesso il push di Bazar probabilmente è quello finale anche lui ha messo a fondo torre tutte le truppe che può bandita da una parte moschettere dall'altra andiamo a vedere come riuscirà se riuscirà a difendere e arrivano un'altra volta gli sgherri che splittati sono molto più potenti qui il push sulla sinistra non riesce a tenerlo Mattia aspetta aspetta non è finita non è finita non è finita non è finita 554 363 a torre se riesce a difendere quella bandit può sperare di rimanere vivo per 30 secondi ricordiamo che il pareggio sono tanti quei barbari 30 secondi adesso per il giocatore dei clash Mattia non puoi difendere 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 arrivo l'hit finale dopo una partita bellissima impressionante un proprio veramente consumato a livello psicologico deve essere stato Mattia allora abbiamo ovviamente commentato quanto è stato bravo Mattia a difendersi sotto i risir ma quanto è stato bravo Bazar sì è la scelta la scelta ma guarda come ha piazzato ogni volta l'estrattore di risir quando sempre era sicuro di non rischiare e ne ha piazzate anche a volte tre vuol dire che è riuscito ad alternarsi nell'attacco alla difesa nel piazzamento degli estrattori ma era perfetta sì diciamo che Mattia non aveva praticamente risposte agli estrattori ma è stato veramente intelligentissimo lui a tirare fuori questo deck probabilmente adesso saprà Mattia che è una possibilità nell'arco una freccia nell'arco del giocatore avversario del giocatore dei makers Bazar quindi probabilmente andrà a scegliere un deck con qualche pozione grande anche perché ripeto potrebbe c'è una fulmine cambiata così a così sì ovvio anche però secondo me non rivedremo mai più questo deck con estrattori non rivedremo più proprio gli estrattori da parte di che poi tra l'altro Bazar questa cosa l'ha già fatta nelle altre partite la prima partita si gioca un deck completamente approvato il deck col terremoto del domatore sempre e poi non l'ha usato più quindi è molto robabile che se abbiamo capito la psicologia dell'avversario del giocatore non andrà a giocarsi nuovo lo stesso deck anche se in verità apre di fornace io ci tenevo che ho pronosticato un 3 a 1 ragazzi quindi ancora ci sto adesso lo deve vincere tutte mattina che sceglie proprio il tuo deck il domatore terremoto bellissimo da parte ripeto Bazar per ora schiera le esatte due carte di prima no arriva un gol in dichiaccio potrebbe essere Nascimitero o un Gigante Royale vediamo non vorrei sbilanciarmi perché cioè ti ho detto lo vedi anche tu lo vedono tutti Bazar è imprevedibilissimo quindi non so davvero che aspettarmi Valkyrie è qui che in questo caso fa il devasto quindi ottima scelta da parte di Mattia di utilizzare questo deck era tanto che in competitive non vedevamo l'utilizzo da Valkyrie che invece è molto presente in ladder probabilmente per la sua facilità di utilizzo diciamo che è una truppa molto intuitiva da utilizzare però adesso lo vediamo anche qui parte il domatore a sinistra bravissimo Bazar che si è tenuto la fornace per questa eventualità sapeva che avrebbe dovuto difendere la domatore non ha un counter naturale come la tornato e quindi utilizza ottimamente la fornace ottimo utilizzo questa della cimitero ma Mattia ha tutte le risposte necessarie per tenerla a bada guardate la Valkyrie praticamente la annienta la funzione di una veleno contro la però ha preso degli hit da quel singolo barbaro che era rimasto quindi per ora a Bazar si è preso un pochino di vantaggio qui bravissimo sempre Bazar ragazzi che risposta e quando gli tirano il domatore allora usa la fornace poi utilizza i barbari non gli fanno dare da alcun hit quel domatore ancora non ha dato un hit a torre ne ha dato una proprio in questo push però si l'unica hit si ha dato ed è stato davvero bravo Mattia a fargli dare perché potenzialmente qui Bazar può difendere all'infinito sempre in situazioni normali poi se Mattia riesce ad outplayare l'avversario ovvero a portarlo a giocare nel modo in cui vuole lui allora lì si parla di un altro discorso ricordiamo che la terremoto contro la fornace è davvero ottima eh già eh già la terremoto infatti contro la fornace riesce sempre a distruggere qui un'altra volta il domatore non riesce a fare nessun hit quei due arcieri sembrano davvero Batman e Robin riescono a levare tutti gli scheletri del cimitero qui arriva la terremoto sui barbari non fa troppo danno ricordiamo che la terremoto è stata studiata soprattutto per le strutture quindi fa più danno a quello che le truppe giusto? si però è riuscito a dare l'hit col domatore proprio per una peculiarità della terremoto che è quella di rallentare le due avversarie stavo proprio per dirlo eccola qui bravissimo Mattia rallenta un hit due hit piano piano Mattia sembra lui questa volta il giocatore va ad imprimere l'inerzia che vuole al game ed è lui che sembrerebbe ripeto essersi preso un minimo di vantaggio qui però deve difendere una cimitero la difende in maniera perfetta arrivano quei cinque barbari che saranno facilissimi da difendere con quei del arcieri figurati infatti è così dall'altra parte arriva addirittura due hit su quel autore le ha diciamo tutte e due ah guarda che posizionamento della fornace da parte di Abazar che si aspettava la cimitero e quindi non è andato a posizionare la fornace dove tra virgolette è più utile ma è stato molto bravo qui buona anche la veleno da parte di Abazar che sapeva dell'utilizzo di quegli arcieri va a fare un bel po' di danni a torre questi sono tanti qui domatore che riuscirà a dare un hit che non è male porta la torre 873 direi che è una situazione abbastanza vantaggiosa per Mattia che adesso probabilmente dovrà utilizzare un barrile barbarico la valchiria fa bene a non utilizzarla sui barbari e lasciarsela per la cimitero quindi un'altra difesa impeccabile sì perché comunque si ha dei danni li devi prendere comunque vabbè impeccabile comunque soprattutto perché come hai detto tu il giocatore dei makers ha anche la veleno quindi non può difendere se non con la valchiria dalla cimitero perché la valchiria riesce a assorbire abbastanza danni alla veleno il push comunque di Bazar va sulla lente di destra e sulla lente di sinistra c'è anche la cimitero di nuovo difesa dalla valchiria qui bravo a mettere degli scheletri che attirano tutte e due le truppe arriva però la veleno insieme alla cimitero i danni ci sono non possiamo dire di no sono anche tanti arriva un hit del gol di ghiaccio solo uno dall'altra parte però la terremoto fa il bello la partita si concluderà chiaramente quando il giocatore più veloce riuscirà a dare il hit finale qui deve difendere addirittura con i barbari un barile barbarico attenzione perché se parte la cimitero la veleno guarda come deve riuscire a mettere la terremoto in tempo ecco la che arriva 65 4 rimane 4 arriva la palla di neve bravissimo stava per perdere stava per perdere stava per perdere Mattia riesce a fare 1 a 1 ragazzi che livello di gioco che stanno facendo vedere questi due giocatori incredibile cioè come fai a giocare contro una persona che non ti sbaglia niente semplicemente perché anche tu non sbagli niente esattamente alla fine chi la dura la vince è una guerra di nervi io sudo per loro e qua non fa neanche tanto caso dici che sono le luci o stiamo sudando per loro beh questa partita insomma sta dando una botta parecchio importante alle coronarie del vecchio Akira sai che insomma ne ha viste di tutti i colori non si invecchia mai nell'eSports bravo l'eSports ci tiene il gioco questo ragazzo l'ho consigliato comunque continuato continuato se doveste avere ecco dice chi chiamo per Clash Royale lui allora andiamo a vedere quale sarà la terza partita adesso mi aspetto tra l'altro altri due deck diversi per ora quattro deck diversi ma aspettatele tanti giocatori che sanno giocare molti deck competitivi e questa ripeto è una peculiarità anche quella è una skill da ottenere se sai giocare solo due deck ma alla fine la gente lo sa tra l'altro stanno utilizzando tutte queste tipologie di deck e ricordiamo che gli sono state bannate ad entrambi le loro due win condition preferite esatto sono Mastino e Minatore esatto allora andiamo a vedere come inizia questa partita ancora Mattia ripeto cambia una bandita che non avevamo mai visto un drago e vediamo cosa succederà Bazar potrebbe riproporre il deck precedente potrebbe dall'altro lato aspettiamo questo drago mi fa ben pensare potrebbe essere un golem però non si sa mai bene o male queste sono tipologie di carte che si usano in svariati deck dall'altro lato abbiamo un cacciatore cacciatore l'abbiamo forse il deck della prima partita no neanche quello perché è ancora la prima partita guarda chi vediamo qui comunque si scintilla per Bazar e da quest'altro lato abbiamo una Ram Rider accompagnata da un pecca molto probabilmente Ram Rider che comunque è riuscito a rallentare di molto questo push che arriva sotto ecco il pecca l'hai chiamato arriva proprio lui a difendere in maniera impeccabile proprio questo push da parte del giocatore dei makers adesso però il pecca si scontrerà contro la potenza indefinita della scintilla esatto un hit arriva la prima hit arriverà anche la seconda pecca viene disintegrato dalla scintilla che adesso se la deve vedere contro un drago sicuramente un mago elettrico che tra 3 2 1 tac eccolo qui arriverà Simone ma te ne sai vabbè vabbè prendi questi complimenti il counter naturale qui tra l'altro parlando di counter naturale ti direi che il cacciatore è un ottimo counter per il drago e attenzione mamma mia guarda ha fatto la bandita desce da ponte desce da ponte qui viene fermata ottimamente l'iniziativa di Mattia di Rhyme Rider e bandita da quel principe nero che veramente ne ha sapute raccontare tantissime non riesce a dare l'editto a torre partita sostanzialmente in pareggio si è combattutissima ma l'unico problema del pecca è appunto la scintilla quindi andremo a vedere risposta domanda e risposta pecca che ovviamente va a affrontare questo gigante goblin portato da casa in maniera velocia dall'altra parte scintilla allora se è riuscito a ciclare il mago elettrico ancora meglio ancora meglio guarda la bandita molto meglio bellissima iniziativa da parte di Mattia che con una fulmine e con la Ram Rider riesce a fermare quella scintilla quindi pecca che ha preso molto vantaggio molta iniziativa perché può riutilizzare l'Ulysir per rimetterlo proprio questo è quello che si cerca di fare con un deck beat down che stiamo vedendo in questo momento di nuovo può ripartire con Ram Rider dietro pecca deve far qualcosa però di nuovo per quella scintilla eh ora potrà fare davvero poco perché la scintilla resta in vita nonostante palla di neve e fulmine ragazzi la scintilla è sottovalutatissima ma guardate se usata nel modo giusto quanto può dare fastidio ha dovuto spendere praticamente tutto l'Ulysir a disposizione per togliere la scintilla qua prova a cambiare target del oddio non è vero non può cambiare target di un gigante che va solo a torre qui mi sa tanto che arriva al 2 cc 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 nel momento giusto arriva tim tum tam ricordiamo che fa 3 hit e si porta a casa la partita mi ha smentito bravissimo il giocatore dei makers che va quindi sul 2 a 1 non darei per vinto Mattia anche se ti ha smentito secondo me lo vedremo il 2 a 2 perché qui nessuno si vuole arrendere e poi commenteremo veramente urlando e facendo incazzare vicini l'ultima partita di questa serie veramente veramente splendida comunque per ora ripeto di livello altissimo effettivamente ci hanno dimostrato perché sono i 2 giocatori a putteggio pieno ma io te lo dicevo anche prima non so se l'ho detto anche prima si si no in stream sicuramente me lo dicevi insomma fuori dallo stream ragazzi io commentando la crl sto vedendo lo stesso livello di gioco che vedo oggi qui quindi meglio di così in Italia non potevamo andare no assolutamente no invece no quello che mi dicevi off stream è che comunque insomma i tuoi 2 giocatori quelli su cui avresti puntato in questa Svadafone Champions sono proprio Mattia e Bazaar che effettivamente sono i 2 giocatori che si sono dimostrati più in forma c'è anche un Black Mamba che comunque ha sbagliato una partita però è lì non è che non è lì comunque gioca molto bene è un giocatore che ha sicuramente uno stile di gioco meno solido questo va detto c'è un giocatore che sbaglia di più però è anche un giocatore un po' più estroso di questi due e può mettere in difficoltà Q secondo me andiamo a vedere quindi Game 4 che tra Makers e Clash Bazaar contro Mattia che si scambiano per ora inizialmente solo delle emote e Fornace che proprio è la carta di Bazaar eh sì vediamo un pochino cosa decideranno di utilizzare ora comunque ragazzi se mi dovesse chiedere quali sono i due giocatori più forti al momento in Italia io vi dico loro nonostante quanto io sia fanboy di pasti attualmente fanboy mi piace moltissimo sono fanboy di livelli elevatissimi comunque ripropone il mago elettrico Mattia però ovviamente ha paura di un'altra scintilla un'altra scintilla che potrebbe arrivare vero Remus? eh sì no invece arriva un gigante royale un deck costruito in maniera simile però aveva le stesse quattro carte di quello di prima poi cambia il gigante royale gigante royale che tra l'altro se la dovrà vedere come una fornace quindi non sarà molto efficace dipende dalla carta che dalla spell che ha il signor basale vediamo innanzitutto questo push lo manderà un po' un push di studio un push di studio mi piace arriva un mago elettrico che fa cambiare target a quel mega sguero quindi rimane in vita un drago che può dare due belle hit a quella fornace ottimo giocato da parte di Mattia che però prende qualche tanto di troppo su quella torre preso due hit del barbaro che alla fine ci possono stare guardie che ovviamente non faranno nulla sulla torre di bazar guardie che praticamente sono una truppa fragilissima costano solo 3 deliziere ricordiamolo ma che hanno la prerogativa di avere lo scudo come il principe nero sono dei counter di pecca esatto la stessa scintilla della stessa scintilla anche del principe nero perché avendo lo scudo tendono a limitare il danno iniziale il dash di tutte carte che dashano o che hanno dei danni elevatissimi tra l'altro Mattia mostra un gigante royal proprio come il suo avversario quindi è una sfida diciamo mirror ma cambiano in verità delle carte che entrambi i giovedoni non hanno lo stesso deck qui barbari da parte di bazar barbari che sono tornati per fronte prepotentemente in meta o sbaglio? eh si ci sono anche perché sono diventati cinque sono sì più counterabili perché ricordiamo vengono shottati da una singola palla di fuoco però sì sono tornati in meta attenzione qua comunque il giocante royal di bazar che non riesce a dare neanche un'itta alle torri di Mattia mentre dall'altra parte Mattia è riuscito a portare a 1916 la torre della lenda di sinistra quella su cui probabilmente deve andare ad attaccare attenzione però entrambi i giocatori non hanno scoperto l'ultima carta potrebbe essere davvero decisiva vediamo qui eh sì tutto dipende da quell'ultima carta in realtà quindi con queste si stanno ancora studiando tra virgolette vediamo il leggero vantaggio Mattia ma come sapete ragazzi miei qui basta un push qui stanno giocando ovviamente col per due di Elisir siamo in tempi supplementari mancano due minuti e trentasei ricordiamo che nella prima partita stavamo quasi per vedere una patta quando invece Bazar se l'è portata a casa se dovesse vincere anche questa partita il giocatore di Makers sarebbe lui l'unico ad andare a punteggio pieno ancora non rivelano quella carta quindi stanno giocando con un ciclo a tre carte eccola comunque la fulmine ovviamente da parte di Mattia è stato bravissimo Bazar a posizionare il moschettiere lì perché si aspettava questa fulmine e l'ha fatto rimanere in vita l'ha messo fuori dal range di una possibile fulmine che avrebbe preso una value un po' troppo grande eh sì esatto esatto qua comunque anche Mattia gioca molto bene le sue carte in difesa guarda che ferma quello che era Barbaro fu riuscito dal barile barbarico adesso si scontriano Megasgarro contro Megasgarro attenzione però il Gigante Royale a Ponte può far male a Mattia bravissimo sempre Bazar a tirare anche un barile barbarico che ha fermato proprio quegli spiriti del fuoco va a dare un singolo hit però fa malissimo di Gigante Royale fulmine buona qui buona qui la fulmine effettivamente quel drago può uh gli cambia il target perché l'ha allontanato una palla di neve ragazzi che giocatori che giocatori allora io guarda non mi sbilancio più però dillo tu che questo è un pareggio no non lo dico non lo voglio dire a qualcuno secondo me c'è la spunta qui il Gigante Royale di Mattia può prendere un pochino di vantaggio invece non riesce non riesce neanche a distruggere la fornace 1069 però nella torre della lane di sinistra di Bazar che è il giocatore che per ora è in svantaggio Mattia addirittura ha una torre quasi il full life il 2280 l'altra 1784 che è più o meno come la lane di destra di Bazar ora fossimo stati in King of Tale del CRL questa sarebbe stata una partita vinta ai punti da Mattia non ci troviamo in CRL quindi ragazzi miei in caso di pareggio verrà rigiocata secondo me secondo me scedere Mattia non mi smentire occhio perché se dovesse riuscire a ciclare la fulmine basterebbe probabilmente un solo colpo da parte di questo bruciario che può essere veramente molto pericoloso può riuscire a distruggere la fornace anche che ha aiutato se riesce a tirare la fulmine dopo un hit del gigante non arriva non arriva non arriva non arriva non arriva l'hit neanche del Barbaro la fulmine che non riuscirà a levare 762 punti vinta alla torre di Bazar non arriva neanche quindi c'avevi ragione stavolta un minimo un minimo comunque ragazzi miei che cosa stiamo vedendo? Gigante Royal contro il Gigante Royal montati in maniera diversa c'erano delle differenze sostanziali tra i due deck devo essere sincero però poi entrambi alla fine hanno tirato fuori la fulmine che era proprio la carta che probabilmente volevamo vedere perché era la carta secondo me che giocava molto bene contro i deck che avevamo appena visto sì sì e alla fine però un pareggio un pareggio che chiaramente non accontenta sicuramente il giocatore di Clash Forge che era Lilli per strapparla e adesso Bazar può ripartire ma bisogna vedere che deck uscirà fuori perché ripeto la scelta del deck l'entrare nella testa dell'avversario cercare di piegare la sua forza di volontà ponendo sempre una mossa che appunto non si aspetta o che è la cosa veramente chiave per un giocatore di questo campionato perché ripeto giocando una best of five la skill è fondamentale è chiaro ma l'intelligenza strategica non scegliere i deck quello che dicevamo prima quello è il lavoro degli analyst che stanno alle spalle dei grandi team finalmente anche in Italia bello 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 che il livello italiano stia crescendo così tanto da far dire a Nemos appunto che è indistinguibile la Clash Rally domatore contro tornato eh domatore contro tornato non fa bene chiaramente a a Mattia vedere che quando ha schierato il domatore è partita la tornato da parte di Bazar tornato mago di ghiaccio non l'avevamo visto neanche il mago di ghiaccio fino adesso no questo sarà un classico deck cimitero dall'altro lato abbiamo Mattia con terremoto domatore quindi non lo so non sarà bene niente facile per Mattia eh sì è un un cycle di domatore e terremoto di nuovo riproposto da Mattia quindi un deck che avevamo visto in precedenza che comunque viene riproposto d'altro il deck comunque aveva vinto Mattia sì sì perché comunque si è counter diretto di deck con cimitero quindi non scordiamoci neanche questa a meno che non usa cimitero adesso non lo so aspetta un attimo non credo però ci sia la cimitero aspetta un attimo infatti eccola qui quel boscagioro mi ha fatto pensare però qui abbiamo la torre inferno che lo distrugge ah però ottima scelta di deck da parte di Mattia che nel suo appunto domatore terremoto che però ancora non abbiamo visto cycle che probabilmente arriverà è stato davvero molto bravo a piazzare una torre infernale qui bellissima la tornato di basare ragazzi andiamo a notare queste giocate fa una tornata non al centro perché dall'altra parte aveva appena piazzato un mago di ghiaccio che riesce a dare quel lit fondamentale per far fare zero colpi al domatore quando si arriva a stile ma io voglio giocare con loro voglio vedere quanti danni facciano se più di zero secondo me guarda se io ho battuto sul giga goblin chiunque può battere chiuno ok non io contro pazzaro mattia attenzione ecco questo qui è il deck di anapan deck odiatissimo da chiunque che adesso vediamo se riuscirà a non prendere il tema in quel caso mamma mia ragazzuoli parte addirittura l'applauso in studio da parte di nemos qui di nuovo una tornata al centro e poi il solito mago di ghiaccio proprio per fermare l'avanzata del domatore a torre ricordiamo che la partita precedente è stata conclusa in un nulla di fatto in un pareggio quindi siamo ancora 2 a 1 potremmo giocare fino a mezzanotte noi potremmo divertirci veramente tantissimo per me potete pareggiare da adesso fino alle 2 occhio qua questo domatore però qualche hit lo può dare uno solo uno perché è molto molto forte come risposta il boscaiolo buonissima qui la palla di neve che sposta la mongolfiera nel range della torre inferno davvero bravo tra l'altro poteva prendere un valore infinito da quella torre inferno perché poteva ma non è andata così andare a distruggere anche il pecca adesso c'è il pecca a sinistra che però è pericoloso torre inferno a sinistra e per noi che comincia eh sì arriva a scherir bravissimo ancora però c'è la gelo probabilmente però l'ha spostato quanto basta è proprio così per andarlo a far finire sulla torre inferno adesso addirittura di tira una fireball per mantenere l'investimento che l'isir su quella torre inferno non farsela ammazzare anche se il pecca ormai aveva perso e pari parte con un domatore che stavolta l'ha tagliato in due ragazzi miei l'altro pareggio non lo so non lo so perché c'è la gelo la gelo fa male eccola la gelo potrebbe far male non in questo caso mi sa aspetta un attimo vediamo se arriva non ha fermato la torre perché voleva fermare quegli scheretti era più importante perfetta mamma mia ragazzi miei in festa eccezionale ragazzi miei in hit da boscaiolo dopo tutto quel push mamma mia mamma mia questo cycle di Mattia veramente incredibile dobbiamo ancora vedere una carta nell'altra parte di Mattia un'altra volta perfetto c'è un mago di ghiaccio che era partito e c'è una tornata che ferma tutta l'iniziativa del domatore tirandolo al centro ragazzi miei io avevo detto di fare pop corn andate a farne degli altri avete finito di pop corn andate a farne degli altri andate a farne degli altri che qui si fa notte attenzione però il push a sinistra di Bazar con la sua mongolfiera qui se ci fosse una gelo infatti arriva ma arriva un'altra torre inferno da parte del giocatore di clash attenzione 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 un hit la dovrebbe prendere qui finalmente direi lo fa quell'hit è importantissimo guarda dall'altro lato Megasgarro full vita che gli facciamo con il Megasgarro eh niente però c'è però Bazar vicino alla vittoria vicino alla testa della classifica di Esbola con Champions mi sembra davvero in difficoltà il giocatore dei clash che adesso deve difendersi da un po' incredibile viene da destra e da sinistra sia la mongolfiera che pecca non può fare nulla contro quella mongolfiera che viene solo spostata e si conclude qua Bazar è lui ad andare a 15 punti e a prendersi il punteggio pieno 3 a 1 nonostante tutte le gufate che gli ho tirato su Twitter il giocatore del makers